il numero 7 Marti Nemec stessa cosa aveva fatto Loreto due settimane fa c'era un giocatore completamente con i capelli blu sempre per scommesso il miglior giocatore slovacco 2010 torna in battuta forzerà senz'altro e c'è il punto su zappa terra ma si e Nemec ovviamente ha la facoltà di sparare mai mai attaccare sul palleggiatore mai attaccare sul palleggiatore ora non c'è Orduna quindi Rossi tira una palla alta e Rosalba tira la diagonale Michina solo il secondo alzatore groppi per Pozzo del Federico ancora esce 19-22 l'attore slovacco si sta zingendo a servizio picchia forte e va bene di nuovo da Patera decisamente in difficoltà su queste palle che comunque arrivano ad una velocità elevatissima Ghigno Beffardo di Manasero come per dire di tutti la coppa terrificante Martin Hemet vediamo Martin una volta in qualche maniera può rigiocare la palla è fuori la palla è fuori incredibile Nudi per Paoletti difende Nemec bagger di Marino altissimo Nemec può solo mandare la palla di là Zappaterra Nudi ancora Paoletti timorato Martin Nemec sospinto a gran voce da Andrea Bartoczioni 23-22 un'altra palata in campo e la palla match per la gara di Cartoedit Svi avvenimento incredibile tiene la ricezione Vigeno lo vediamo fuori 10 punti consecutivi con Martin Nemec in battuta